Tendenza a progressivo consolidamento di un promontorio subtropicale sull'Europa centro-occidentale. Tempo quindi stabile e temperature in aumento. In Toscana lunedì 22 luglio cielo sereno o poco nuvoloso. Venti deboli a regime di brezza sulla costa, mari calmi o poco mossi, temperature in lieve aumento su valori superiori alla norma, punte di 36-37 gradi nelle pianure interne. Sulla provincia di Lucca cielo sereno o poco nuvoloso. A Lucca temperatura minima 18, massima 34 gradi. A Castelnuovo minima 15, massima 35 gradi. A Viareggio minima 20, massima 27 gradi. A Castelnuovo minima 15, massima 35 gradi.